A sinistra, sistemi compromessi, ricalcoli. Attenzione! Cambio di programma! Alveda. Danni rilevati, ricalco. È stata una lunga giornata. Ok, un lungo paio di mesi. Reliquia trovata! Mai visto nulla di simile. Avevamo recuperato molti reperti nella nostra carriera, ma questo, questo era diverso. E lui lo sapeva. Scusa, Varun, ma quello mi serve. Consegnami il manufatto e potrai tornare a fare il galoppino del comandante. Attento, non mi ripeto. L'agente Batra ci ha traditi. Trovate quel bastardo! Ora, invece dei manufatti, la realm cerca me. Per fortuna, ho tutto sotto controllo. Sei in ritardo? Già, tu invece sei pesante. Benvenuto nei Valorant. Ciano. 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 Ciano.